Siamo qui oggi, come annunciato il 21 novembre in occasione della giornata nazionale degli alberi, per portare a termine la piantumazione di 11 alberi, 10 aceri giapponesi e un liquidan bar. Non a caso 11 alberi, come 11 sono i giocatori delle squadre di calcio, della squadra del Torino, e così come 11 sono gli anni di collaborazione di Suzuki con la squadra del Torino. È un'attività che va in continuità, Suzuki già nella provincia di Torino ha piantumato 166 alberi e è anche un'attività che coinvolge tutte le nostre concessionarie. In questi anni oltre 600 sono gli alberi che sono stati piantati in tutta Italia. Quindi con piacere continuiamo su questa strada di vicinanza ai progetti GRID. Un'iniziativa meravigliosa, quella pensata da Suzuki, che si incasella insieme ad altre iniziative di tipo ecologico che loro hanno già messo in piedi nella città da diverso tempo. 11 alberi che hanno una grande particolarità che è quella di un foliage rosso granata che emerge in primavera e che quindi in qualche modo si lega a quanto più possibile a noi. Un saluto agli amici di Suzuki. Suzuki.